Grazie Presidente, molto brevemente condividiamo assolutamente lo spirito di quest'ordine del giorno e dichiaro infatti il voto favorevole del Movimento 5 Stelle per quanto riguarda la parte degli impegni. I comites e il CGE, il Consiglio Generale degli Italiani all'estero, così come i comitati degli italiani all'estero sono enti importanti di rappresentanza nelle realtà degli italiani all'estero appunto. Ciononostante il Movimento 5 Stelle vorrebbe astenersi sulla parte delle premesse perché riteneremmo necessario completare la formulazione delle premesse attraverso dei passaggi di questo tipo ovvero cercare di approfondire il momento di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle attività portate avanti da questi organi così da impiegare al meglio le risorse e incontrare al meglio le necessità dei cittadini italiani all'estero. Grazie.